Buongiorno a tutti, sono Daniele Checcarelli, medico fisiatra del dipartimento di riabilitazione dell'azienda USL Umbria 2 e componente medico della commissione medica della federazione italiana tennis. Siamo qui a Medica di Düsseldorf dove è stata presentata la Tilt therapy. La Tilt therapy è una innovativa fototerapia basata su una tecnologia laser avanzata che sto utilizzando da circa tre mesi nella mia pratica quotidiana. Tra le varie patologie che tratto occupandomi di colonna utilizzo la Tilt therapy soprattutto per quello che riguarda le problematiche di lombosciatalgia da ernia del disco e di cervicobarachialgia. Grazie ad alcune peculiarità della Tilt therapy come ad esempio la possibilità di mixare le varie lunghezze d'onda, di selezionare la modalità di emissione, di utilizzare applicatori differenti e grazie al controllo termico presente in alcuni di questi sto ottenendo rispetto al passato dei risultati sicuramente migliori. Grazie a queste caratteristiche riesco ad ottenere degli effetti antinfiammatori e il controllo del dolore in queste problematiche anche nella fase iperacuta. Grazie alla modalità di emissione stocastica che è un brevetto della Mectronic si riesce ad effettuare la terapia con una modalità di emissione cosiddetta naturalmente termica quindi senza ottenere quegli effetti di surriscaldamento a livello appunto locale quindi nella zona paravertebrale che potrebbero avere sicuramente in una fase iperacuta degli effetti negativi. Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti per quello che riguarda il controllo del dolore neuropatico e del fatto che questa terapia può essere molto customizzata quindi adattata alle problematiche specifiche del paziente per questo motivo nei prossimi mesi la utilizzerò anche in altre patologie.